C'è un limite anche alla dialettica e alla strumentalizzazione politica. Quel limite, nel caso degli allarmi continuamente sollevati a mezzo stampa sugli alberi della strada parco, è stato superato perché si tratta di allarmi ingiustificati e infondati. E secca la replica del vice sindaco e assessore ai parchi e verde pubblico del comune di Pescara Gianni Santilli, che ha eseguito un sopralluogo assieme al responsabile comunale, l'agronomo Mario Caudullo, precisando pubblicamente che le 78 piante, che secondo alcuni sarebbero state a rischio, sono in perfetto ordine e in piena salute. La cementificazione che dicono queste associazioni è solo un pretesto. Praticamente non ci sarà cementificazione, sarà soltanto fatto il marciapiede dal lato mare, dove dobbiamo dare la possibilità alle carrozzine dei disabili di avere un percorso dedicato. niente di più. Assolutamente non verrà toccata nessuna pianta, lo ribadisco con forza. L'altro giorno sono stato con l'agronomo e il dottor Caudullo a fare un sopralluogo proprio sul posto, perché avevamo avuto dei segnali da parte di qualcuno che non fossero belli. non ero contento di questo e siamo andati con il dottor Caudullo, che mi ha rassicurato in piena sui lavori che si stanno facendo. Il verde della strada barco rimarrà intatto, anzi verrà incrementato con delle siepi.